Vincenzo Esposito, ex PD, fu riuscito per la divergenza all'interno del partito vocale, ecco a breve, era discusso in consiglio comunale una mozione di censura nei confronti del vice sindaco e assessore Paolo D'Alterio. Secondo lei, come andrà a finire? Se il PD mantiene una posizione che ha espresso con un documento al sindaco, per cui gli eleverà il ritiro della tele che è all'assessore, il problema dovrebbe essere risolto prima del consiglio comunale. Se il sindaco non tiene conto delle indicazioni del suo partito e si va in consiglio comunale, io penso che per coerenza i PD dovrebbero dare la mozione di censura. A quel punto, secondo è un problema, il sindaco potrebbe finalmente fare un atto di ascolto alla città e tendare un nuovo inizio, con un'amministrazione rinnovata, competente e capace. Se non c'è questo, e questo sarebbe importante anche per dare un segnale alla Commissione di cambiamento rispetto a alcune criticità manifestate. Io spero che per il bene della città si vada una discontinuità che eviti lo sognimento del consiglio comunale.